Maria ci offre l'esempio più immediato di come dobbiamo iniziare la settimana santa ai piedi di Gesù anche noi dobbiamo piangere i nostri peccati e cospargere i piedi di Gesù con il profumo della nostra contrizione l'amore che Maria dona a Gesù in questi difficili momenti della sua vita è l'amore che lo rinforza per seguire la strada della passione ed è questo amore che il Signore attende da ciascuno di noi viviamo questo lunedì santo nella consapevolezza della nostra indennità che non ferma Gesù a donarsi per la nostra salvezza ringraziamo Gesù per averci amato fino a tal punto da prendere il nostro posto per riparare la giustizia divina che cosa significa per te vivere in concreto secondo la logica di Maria e di Gesù cosa vuoi offrire oggi al Signore